Genesi capitolo 1 dal verso 1 non è difficile la trovare leggiamo i primi dieci versi così è scritto in Genesi al capitolo primo dal verso primo nel principio Dio creò i cieli e la terra la terra era in forme vuota le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle superfici delle acque Dio disse sia luce e luce fu Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte fu sera poi fu mattina primo giorno poi Dio disse vi sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa e così fu Dio chiamò la distesa cielo fu sera poi fu mattina secondo giorno poi Dio disse le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto e così fu Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari Dio vide che questo era buono è interessante notare qualcosa nei primi versi Dio nel principio comincia quest'opera straordinaria gloriosa meravigliosa di creazione e mentre il racconto si svolge in maniera chiaramente come notiamo molto sintetica ci sono degli aspetti che non possono non venire alla nostra mente e che possono essere di grande aiuto di grande insegnamento cioè il fatto che oltre alla potenza creatice della parola il fatto che ogni cosa che Dio fa e compie lo fa mediante la sua parola la cui potenza non ha limite alcuno notiamo però che in questi primi dieci versi della creazione più volte Dio comincia l'opera separando separa ora per noi è interessante questo perché 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 ci dà un'idea di qualcosa che Dio fece da principio ma che continuerà lungo tutto il corso della storia umana ed è su questo che voglio fissare l'attenzione con voi cioè considerare il significato di questo concetto del concetto di separare che Dio mostra sin dai primi versi della parola di Dio e che ha un ruolo così importante nel rendere buona la creazione anzitutto consideriamo questi aspetti Dio separa la luce dalle tenebre Dio separa le acque che sono di sotto da quelle che sono di sopra Dio separa le acque e i mari dalla terraferma crea cioè per dare luogo fermezza stabilità all'opera sua deve fare una divisione deve creare una separazione ora è interessante questo perché perché sin da principio questo avviene e in effetti studiando la parola di Dio scopriamo che Dio cominciò a separare ancora prima della creazione del del cielo e della terra quando quando a causa della ribellione di Satana e degli angeli che lo seguirono Dio separò gli angeli rimasti fedeli da quelli che invece si ribellarono e c'è quindi in Dio un modo di operare che per noi deve essere oggetto della nostra attenzione perché come dicevo lo troveremo ovunque e sin dalle prime pagine Dio ha voluto che si presentasse a noi nel corso della storia nella storia di Israele Dio si è scelto un popolo che doveva essere separato il termine stesso santificato o santificare vuol dire separato o separare e il grande braccio di ferro che Dio dovette fare nel corso della storia con il suo popolo riguardava proprio il fatto che il popolo non voleva separarsi cioè cominciò a confondersi con le popolazioni che erano in mezzo al al popolo di Dio infatti da principio quando Dio li portò nella terra promessa il comandamento era che non dovevano confondersi si dovevano separare dovevano allontanare le le popolazioni perché perché Dio aveva bisogno di un popolo che portasse una testimonianza completamente diversa doveva essere appunto quello che viene detto nei primi versi la luce che risplende nelle tenebre affinché si facesse una chiara separazione tra ciò che è di Dio e ciò che non gli appartiene in altre parole e lo vedremo ancora con altri esempi in altre parole Dio ci mette in chiara luce sin dai primi momenti del della creazione e sin dai primi momenti del racconto biblico che chi vuole unirsi a Dio deve essere separato da ciò che Dio non gradisce è il primo segno glorioso della santità di Dio colui che separa e che è separato da tutto ciò che è male e peccato ed è interessante perché se noi proseguiamo il racconto scopriamo che la parola di Dio mostrerà lungo tutto il corso la necessità di essere santificati l'insegnamento del nuovo testamento parla di questo no egli si è santificato un popolo affinché proclami le sue virtù egli ha scelto l'ha tirato fuori la chiesa è ciò che Dio ha purificato lavato santificato per essere diverso separato dal dal peccato e tutta la parola di Dio insiste su questo ma poi ci sono i racconti e gli insegnamenti di Gesù e questo continua no alla fine dei tempi verranno gli angeli e separeranno ciò che appartiene a Dio da ciò che non gli appartiene ancora nel giudizio delle nazioni Gesù siederà sul trono e separerà quelle che definisce le capre dalle pecore cioè i credenti da coloro che sono ancora ribelli e infine nell'eternità ciò che è santo sarà col Signore ciò che è stato da Dio giudicato a causa del peccato sarà lontano quindi ci sarà questa separazione che vediamo perfettamente nel racconto che Luca ci propone ed Enrico e Lazzaro c'è una separazione tra me tra noi e voi che non può essere colmata e questo concetto ci porta quindi a comprendere alcune cose che sono di fondamentale importanza che Dio quando ci accostiamo a lui dobbiamo considerare che quest'opera continuerà sempre cioè egli separerà ciò che è santo da ciò che non lo è in questo insegnamento di cui la Bibbia come abbiamo visto è piena ne ho fatto un rapido riepilogo alcuni nel corso della storia del cristianesimo ma non solo anche nei racconti biblici del nuovo testamento adesso li analizzeremo hanno commesso dei gravissimi errori nel considerare il significato della separazione noi sappiamo che nel corso della storia del cristianesimo alcuni hanno pensato che per santificarsi dovevano separarsi dal mondo e quindi sono cominciati i movimenti degli eremiti o dei monaci che si isolavano da tutto no si separavano ancora peggio ci furono i movimenti del dei farisei questa setta che pensava che la santificazione secondo il pensiero di dio fosse quella di separarsi dalle persone e infatti la frase che viene citata allontanati da me perché sono più santo di te il concetto di non poter mangiare con una persona che è un peccatore riconosciuto no perché questo ci avrebbe l'avrebbe contaminato il fatto di non mangiare con le mani sporche perché questo avrebbe prodotto contaminazione ma gesù invece ci viene ad insegnare il vero significato della santificazione primo scopriamo che colui che è il santo e il perfetto scende in un mondo di tenebre quando gesù scende in questo mondo spiritualmente la terra è come da principio avvolta nelle nelle tenebre la parola di dio dirà nessuno cerca il signore non c'è neppure un un giusto ma gesù non si contamina nel nello scendere in mezzo a un popolo che è immerso nel peccato perché la sua santità nasce da ciò che egli è e da ciò che egli ha espresso in tutto il corso della sua vita e c'è quindi un un insegnamento che il signore propone ed è importante perché i farisei dicevano io non mi sono mai piegato dinanzi ad un idolo non ho mai disonorato il nome del signore con le mie labbra ho sempre onorato il giorno del sabato ho onorato mio padre e mia madre anche se lo facevano al loro modo e non secondo la scrittura non ho mai ucciso non ho mai commesso adulterio non ho mai rubato ed ancora non ho mai detto falsa testimonianza e questo sarebbe da da vedere ma sembra che i farisei dimenticassero quello che era l'ultimo dei comandamenti e voi notate che il signore gesù invece pose grande enfasi proprio sull'ultimo dei comandamenti se leggete il sermone sul monte voi comprenderete questo cioè il non concupire ora qual è il problema di questo ultimo comandamento ce li abbiamo ce li abbiamo scritti scritti qua alle nostre spalle l'ultimo io devo farvi una confessione io ho sempre insegnato che le tavole della della legge erano divise in due parti i primi quattro comandamenti che riguardavano il nostro rapporto con dio e gli altri sei il rapporto con gli uomini mi sono ricreduto ultimamente i primi quattro riguardano il rapporto con con dio i successivi cinque riguardano il rapporto con il prossimo ma l'ultimo riguarda il rapporto con noi stessi perché la concupiscenza è un peccato che vive dentro di noi e che anche quando sei seduta su un banco di una chiesa anche mentre suoni o anche mentre predichi è un peccato che può vivere in te perché è dentro di te davide in questo momento è fermo lì immobile ad ascoltarmi ma che cosa c'è nella sua mente nel suo cuore chi è che legge i suoi pensieri io no tu neppure lui sì e anche il signore li legge ma dentro l'uomo si agitano pensieri desideri sentimenti che io definisco così come azioni dell'anima azioni dello spirito il corpo non li manifesta ma non per questo non sono reali e autentici e c'è questo aspetto infatti gesù viene e propone nel sermone sul monte l'attenzione proprio sull'ultimo perché perché dice voi vi vantate di non aver fatto questo di non aver fatto questo o di aver fatto questo ma io vi dico che c'è un comandamento che io ho messo che mette a nudo ciò che voi siete dentro dentro di voi nella parte più intima di voi stessi ed io vi dico che se anche non avete commesso adulterio ma avete desiderato una donna o per la donna un uomo in cuor vostro voi è come se aveste commesso adulterio voi vi vantate di non aver mai rubato ma se voi desiderate ardentemente ciò che non vi appartiene è come se rubaste voi dite di non aver mai ucciso ma se nei vostri cuori c'è odio è come se aveste commesso omicidio e allora voi scoprite che l'uomo si trova in una condizione grazie alla comprensione dell'ultimo dei comandamenti in cui non ha più una difesa e quando lo spirito santo scende egli non solo ci persuade di tutti i comandamenti che abbiamo trasgredito no nelle azioni ma punta il dito su quell'ultimo dal quale noi anche se ci isolassimo e salissimo su un monte non potremmo fuggire perché è qualcosa che ha a che fare con la nostra stessa natura e l'apostolo paolo descrive questo in modo mirabile nel capitolo 7 del lettera ai romani quando parla di un uomo che viene dallo spirito di dio convinto di peccato e sebbene egli sappia rinunciare a quell'azione rinunciare a quell'altra azione rinunciare al resto però poi è costretto a gridare misero me uomo chi mi trarrà da questo corpo di morte perché il peccato me lo ritrovo dentro e allora questo ci porta un insegnamento importante su che cosa è la santificazione perché perché tu ti puoi separare da questo ti puoi allontanare da quello ti puoi allontanare da quell'altro ma come ti allontani dai tuoi pensieri dai tuoi sentimenti provaci un po allora al mio 3 smettete di pensare 1 2 3 è impossibile al mio 3 smettete di provare sentimenti 1 2 3 è impossibile ma dio dice che quello che viene vissuto nello spirito non è meno reale di ciò che viene commesso nel corpo e allora e allora c'è questa che è la vera essenza della santità dal quale deriva ogni purezza ed ogni appunto santità cioè considerare questo che noi dobbiamo prendere le distanze udite udite da noi stessi cioè da ciò che in noi è peccato ed è per questo che gesù dice ascoltatemi attentamente non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo ma quello che esce dal cuore quindi i sentimenti cattivi la concupiscenza e tutto ciò che è odioso interessante no questo ora tu ti puoi pure allontanare da fisicamente da ciò che ti induce in peccato e questo è saggio e giusto ma come ti allontani da te stesso ed ecco che allora la parola di dio e il capitolo 8 della lettera ai romani è strepitoso in questo nell'insegnarci questa verità ci viene in soccorso proprio in risposta a quell'affermazione che citavo prima dell'apostolo paolo no misero me chi mi trarrà da questo corpo di morte la legge della libertà la legge dello spirito della libertà che in cristo gesù in altre parole e vi consiglio di leggerli capitoli 7 8 della lettera ai romani in altre in altre parole dio dice che la vera santità è prendere le distanze cioè separarsi da tutto ciò che in noi è carnale da tutto ciò che in noi ancora è peccato e quindi a che serve intendo dire se tu non fai questo non fai questo non fai questo non fai quello parlo fisicamente no oppure fai quello che è buono fai questo fai questo e fai quell'altro però dentro di te sei schiavo dei tuoi cattivi sentimenti sei odile persone sei sempre cupo dentro sei pieno di desideri insoddisfatti sei inappagato molto spesso anche se non le verbalizzi con la bocca però i tuoi pensieri sono pensieri di maldicenza pensieri malvagi verso il prossimo no tu potrai all'apparenza essere anche il più santo ma la parola di dio dice di questo tipo di persone identificate nei farisei che sono sepolcri imbiancati cioè dentro hanno la morte cioè tutto il peccato che si agita e all'esterno appaiono bene allora ecco che il signore viene e ci rivela una cosa interessantissima e dice se voi siete condotti dalla carne e abbiamo appena detto che si può essere condotti dalla carne anche avendo un comportamento all'esterno perfetto ma siamo condotti dalla carne nella mente e nel cuore voi morirete ma se mediante lo spirito voi mortificate gli atti della carne allora allora vivrete e quindi la parola di dio dice ora il signore viene per fare una separazione dentro di te tra ciò che è carnale e ciò che è spirituale e solo chi sa far morire la parte carnale di se stesso e esaltare la parte creata all'immagine di dio è quello che comparirà dinanzi la presenza del signore questa è la vera santità quella che è del cuore di un tale giudeo dirà che circoncide il cuore e non la carne la lode viene da da dio non dagli uomini perché gli uomini non sanno quello che c'è dentro il suo cuore ma dio sì è quello che dio loda e premia è quello che c'è dentro di noi di un uomo di una donna che nati di nuovo separano dentro di sé ciò che è carnale da ciò che è spirituale ma voi ben capite che quest'opera non è umana il combattimento può essere nostro ma l'opera è solo di dio ora ascoltate ripercorriamo un po' quelle che sono state le fasi della creazione per riuscire a descrivere forse in un modo un po' pittoresco poetico quella che è l'opera di santificazione nel cuore degli uomini immaginate il mio ed il vostro cuore come la terra da principio come viene descritta nel verso 2 nel principio dio creò i cieli e la terra ma la terra era informe e vuota le tenebre coprivano la faccia dell'abisso immaginate il vostro cuore così come era prima che il signore compisse l'opera di della nuova creazione in noi era un cuore immerso nelle tenebre senza forma era vuoto di ogni cosa buona ma dio vi ha messo la sua luce ha spazzato le tenebre e non solo ha messo la sua luce dentro di noi no al punto che dice prima dirà io sono la luce del mondo ma poi dirà voi siete la luce del mondo perché quando io sono in voi la luce mia è in voi no ma la luce vedete nell'opera sua non basta continua perché perché sebbene le tenebre siano state dissipate ancora l'ordine deve essere raggiunto ed ecco ancora si separa l'acqua dolce la benedizione che viene dal cielo la pioggia che porta frutto e che disseta i nostri cuori dall'acqua salata e sempre agitata dei mari che non può dissetare quindi l'opera continua per separare ciò che è buono da ciò che ancora rimane di di cattivo in noi e poi separa le acque appunto agitate del mare dalla terra ferma ciò che non è stabile da ciò che invece è fermo è stabile e dio ci invita a fondare la nostra vita sulla roccia e quindi la parola di dio dimostra che quest'opera non può essere compiuta dagli uomini ma è compiuta da da dio ecco perché dice se mediante lo spirito con la s maiuscola voi mortificate gli atti della carne voi vivrete perché dentro di noi questa separazione deve ancora perfezionarsi questo ordine all'immagine di dio deve ancora perfezionarsi e non dimenticate mai che noi in cristo gesù siamo parte di una nuova creazione se uno è in cristo egli è una nuova creatura ma la vera santità parte da quello che dentro perché se l'interno della coppa è netto sarà netto anche l'esterno ed è meraviglioso questo aspetto per noi no quest'opera che dio manifesta sin dalle prime battute della sua rivelazione e che accompagna tutto il popolo e che profeticamente ci viene rivelata anche per gli ultimi giorni è quella che dio continua a compiere nella vita di ogni credente nella parte più profonda e nascosta agli altri ricordate il decimo comandamento ma lì avviene quest'opera solo quando noi combattiamo per mezzo dello spirito cioè chiamiamo in causa per mezzo della preghiera della sua parola della nostra fedeltà della nostra ricerca continua di ciò che è buono l'opera dello spirito di dio in noi per trovare in lui la forza per separare in noi ciò che è tenebra da ciò che è luce e ordinare quello che ancora è nel disordine e il signore alla fine dirà coloro che io ho santificati io condurrò ancora alla mia presenza e li separerò da ciò che invece non mi appartiene e avverrà come scritto nelle parabole delle zizzanie che al tempo della mietitura gli operai scenderanno raccoglieranno ciò che è nel campo e serberanno il grano ma bruceranno le zizzanie con fuoco inestinguibile signore donami di non dimenticare mai che l'opera tua nella mia vita ogni giorno e fino all'ultimo giorno è quella di continuare a separare ciò che è buono da ciò che non lo è aiutami signore a vedere la santità come la mia separazione da ciò che è carnale in noi perché quando anche fossimo all'esterno gli uomini più precisi le donne più irreprensibili se dentro di me si agitano ricordate il decimo comandamento passioni e concupiscenze odiose agli occhi di dio io non sono affatto separato da quel peccato ci dia il signore la grazia di comprendere la profondità di questo insegnamento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti